A partire dal 2017 a Venaria, grazie al bando del Governo per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie, sono stati avviati sette importanti interventi nell'ambito di un'operazione in cui la città metropolitana di Torino ha giocato un ruolo importante. Gli interventi presentati nella Sala del Consiglio Comunale Venariese hanno comportato un investimento di 12 milioni di euro e hanno riguardato la riqualificazione delle aree mercatali e della viabilità di collegamento con i quartieri, la manutenzione straordinaria di scuole e altri edifici comunali, la realizzazione di nuovi varchi elettronici per l'accesso al centro storico, l'housing sociale Cabuozzi, la valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni e la riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Gli interventi a Venaria sono parte integrante del più complessivo progetto Top Metro della città metropolitana di Torino, che è partito nel 2016 e ha consentito di portare sul territorio oltre 70 interventi, volti al miglioramento della coesione sociale, alla rivitalizzazione e alla crescita economica diffusa nelle periferie. Oggi esponiamo i progetti che sono iniziati nel 2016 grazie al bando periferie, che aveva come obiettivo quello di andare a ricucire le zone periferiche con il centro della città. Sul territorio di Venaria i progetti portati avanti sono numerosi e vanno a interessare diverse zone della nostra città. Uno tra i più importanti è sicuramente quello della riqualificazione delle aree metropolitane e della Cabuozzi. Viviamo dei momenti molto tesi dal punto di vista economico per i bilanci comunali, quindi iniziative come questo genere, fondi europei, fondi regionali e fondi a città metropolitana consentono all'amministrazione di poter sviluppare dal punto di vista del decoro urbano, dal punto di vista urbanistico, tutta una serie di interventi fondamentali. Quindi sono davvero preziose risorse che cerchiamo di sfruttare al meglio sul territorio. Pensiamo alle aree mercatali che sono state completamente riqualificate, dando un servizio migliore non solo ai clienti ma alle stesse imprese del territorio, così come anche la parte della videosorveglianza è fondamentale per mettere in sicurezza porzioni del territorio. E devo dire che Città Metropolitana ci sta aiutando molto, non solo per questi interventi meno impattanti, ma anche per le grandi opere che prenderanno il via nel 2023. Penso al ponte, il nuovo ponte sul Ceronda, così come la sistemazione della sicurezza sulla S1 verso le Valle di Lanzo.